Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1, pullman in panne tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Ena 12, controllo della velocità attivo tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze, in direzione Siena, scambio di carreggiata tra l'allacciamento A1, Firenze in Pruneta e San Casciano Nord. E riduzione di carreggiata per lavori tra Bargino e Tavarnelle. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a partire da oggi scattano i provvedimenti in zona stazione in via Valfonda per i nuovi cantieri della tramvia. Buoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!